Buongiorno amici che seguite il canale Pensiero Liberato, oggi vi parlerò di un argomento che tutta questa settimana se ne parlerà purtroppo, ma io ne parlerò in maniera diversa come è il mio costume e come si parla in questo canale. Oggi vi racconterò la vera storia del Casino di Sanremo, quindi del Festival, mettendo in relazione dei personaggi Eugenio Scalfari, Italo Calvino e Vittorio De Sica. Niente di più lontano da quello che si dice oggi, vero? Eppure diciamo un fatto assolutamente vero. Il Casino di Sanremo, dal quale poi diventa normale che ci sia un festival per portare gente in questo Casino, fu costruito da un'associazione di massoni. Niente di strano, tutto legale, tutto perfetto. Il primo direttore di questo Casino fu Antonio Scalfari, nato a Vimbo Valencia, dichiaratamente massone, anche di questo legittimamente e legalmente. Italo Calvino, cioè Antonio Scalfari era molto amico con il padre di Italo Calvino. Niente di strano anche questo. Tutti e due dichiaratamente massoni e si frequentavano, mentre uno faceva un lavoro, uno faceva un altro, ma i due figli, e qui la cosa più interessante, Italo Calvino e Eugenio Scalfari erano compagni di banco al liceo. Il padre di Italo Calvino fu accusato, mai provato, di un attentato non riuscito allo zar Nicola II, in conseguenza del quale fuggì dall'Europa dell'Europa d'allora, riparando a Cuba, dove appunto nacque Italo Calvino. le due famiglie erano molto amiche, si volevano bene ed erano unite anche da questa solidarietà massonica. ma c'è un altro personaggio che si inserisce in questa storia. Antonio Scalfari, quindi il padre di Eugenio, era molto amico di Vittorio De Sica, che era un grande frequentatore del casino di Sanremo e pare che le sue abilità, la sua capacità, la sua fortuna fosse molto scarsa, per cui spesso era senza un fiore di guantrino e pare che il padre di Calvino lo aiutasse, anche il padre di Scalfari, a tornare a di essere i soldi materialmente per tornare a casa, pare. A quel punto però, a quell'epoca Vittorio De Sica era sposato con il nome Maria Mercander, che era un'attrice e congile di Ramon Mercander, che era un agente segreto spagnolo passato agli annali per l'assessilio di Lew Tronsky, ex comandante dell'Arma rossa, come sappia, l'eroe della rivoluzione, della guerra civile, e lo uccise con un colpo di piccone sotto, eseguendo un ordine dell'allora dittatore Stalin. Negli anni 30 Ramon Mercander era già uno degli agenti più importanti e affidabili di Stalin e, come si vuol dire, era lo zio di Cristian De Sica, e quindi lo zio di Cristian De Sica era uno degli agenti più importanti e affidabili di Stalin, questo dicono gli annali. ma a un certo punto, nel 1939, arriva l'ordine di Stalin di assassinare Tronsky, che chiaramente era in viso a Stalin. Maria Mercander si trasferì in Italia nel 1942 e sul set di un guerribaldino a convento conosce il regista Vittorio de Sica. la storia tira l'altra, tra i due scopca immediatamente una scintilla e ricostringe a diventare prima una coppia clandestina, Poi, perché con De Sica ci aveva fatto questo inciso? Vittorio de Sica era già sposata con l'attrice Giuditta Rissone, da cui ebbe una figlia. Niente, si lascia con questa Rissone e si mette con Maria Mercander ed ebbe comunque due figli, Manuel e appunto Cristian. Queste, per cominciare, sono delle piccole storie a latere, alla grande Karmes, che forse mai nessuno vi racconterà. Buona giornata. Una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.